Allora che è assurdo, assurdo Sono gli S3 console che sanno che stavo registrando dentro e mi stanno spammando come dei pazzi Piazza ascolta l'audio, ascolta l'audio Perché sanno che sono in rec, perché io l'ho detto Perché lo sanno, ovviamente li avverto Audio di Jack, S3 Jack da console 13 secondi, vai Allora Piazza, facciamo una scommessa Se questo video raggiunge 15.000 mi piace Regali ad entrambi, sia meca da Alex La PS5 nuova Anzi, facciamo che ci regali l'Xbox nuova Siccome giochiamo da lì Oh, oh, allora Buona, allora Io allora la console l'avrei comprata lo stesso Comunque essendo nel team è normale che gliel'avrei presa Solo, ok, se sono in Da soli Solo a 15.000 like, a posto ragazzi S3 console, vi siete Ok, avete fatto tutto da soli con le vostre mani 15.000 like, se no niente, a posto Io l'avrei fatto lo stesso a 0 like, perfetto Se non arriviamo a 15.000 like Alt, cioè c'è un video che testimonia Ragazzi non mettete like al video Grazie mille, vi voglio bene anch'io Iscrivetevi al canale Perché moltissimi di voi sicuramente si saranno ritrovati disiscritti Ma soprattutto, boys, inserite il codice creatore Piazzprovini Perché? Perché estrarò una persona E quella persona lì entrerà ufficialmente per 10 giorni in STR PC o console Dipende da dove giocate voi E appunto avrete tutti i benefici che si ha Estrarli in STR, quindi PC, postazione nuova, monitor, cuffie, qualsiasi cosa Ok, quindi buona fortuna a tutti Come sempre, quando c'è in STR si viene trattati decisamente bene E gli esteri console e non solo, anche quelli PC possono confermare Buona fortuna, Piazzprovini Nello shop di Fortnite Taggatemi su Instagram E se non avete Instagram Mi scrivete nei commenti il vostro nome di Fortnite Il vostro Epic Games Insomma il vostro nome di Epic Così che io posso mandarvi la richiesta E direi Hai vinto Bella bro, ci sentiamo lì Se non avete Instagram Se no, mi taggate Buona fortuna Piazzprovini Nello shop di Fortnite Ragazzi vuoi Daglie Buona visione E buon video Ragazzi oggi sono qui perché volevo parlarvi di Letyshops Vi spiego che cos'è e soprattutto perché lo sto consigliando proprio a voi Letyshops ragazzi è un servizio di cashback italiano Che praticamente vi consente di risparmiare sui vostri acquisti che fate online Tramite il sito o tramite l'estensione comodamente installabile Potete ricevere indietro parte del dollaro che spendete per l'appunto nei vostri acquisti online Adesso vi spiegherò meglio come Funziona con tantissimi siti che sicuramente userete e conoscerete tutti quanti Ad esempio Aliexpress, Booking.com, Douglas e così via Ci sono oltre 2600 store che vi permetteranno di utilizzare questa funzionalità In maniera molto facile Dovete semplicemente registrarvi Naturalmente è gratis Ovviamente sul sito oppure utilizzate l'estensione Una volta fatto ciò vi recate nel sito appunto dove state per andare ad effettuare l'acquisto Se appunto il sito è supportato dall'estensione In alto a destra ci sarà l'iconcino dell'estensione che diventerà verde Quindi insomma vi darà il via libera Un'opzione aggiuntiva che vi dà l'estensione è quella di controllare l'andamento del prezzo In relazione magari al passato Vi spiego meglio Magari un prodotto può cambiare di prezzo Voi però non lo sapete Grazie a questa estensione potrete vedere anche appunto l'andamento del prezzo Nel corso dei mesi o degli anni addirittura Una volta che avrete effettuato l'acquisto Naturalmente il cashback sarà disponibile nel vostro account Quindi in maniera molto facile nel saldo del vostro account ci sarà appunto il cashback Vi ricordo naturalmente che anche da telefono è disponibile e avete le stesse funzionalità però a portata di mano Perché naturalmente il telefono è un po' più alla portata di tutti Quindi ragazzuoli io vi invito caldamente a fare un salto Io mi trovo molto bene da un po' di settimane che lo sto utilizzando Devo dire che fa il suo lavoro Quindi provatelo insomma iniziate a risparmiare qualcosina Che male non fa mai In parte ragazzi siamo Jack contro Alex 1v1 atteso ma l'avete chiesto in tanti Tra l'altro si sentono anche le loro voci Sono un po' freddi Io vi dico solo che Vi dico solo che Alex ha un dito rotto Si ha il mignolo rotto Però ragazzi Gocano da console ed è per questo che gli ho chiesto chi di voi gioca da pad su console Perché ragazzuoli vi darò la possibilità di confrontarvi con loro Mi darò la possibilità di confrontarvi con loro 110 blu di Jack subito Devo edit Comunque per essere da console a me loro mi piacciono troppo Cioè sincero In Italia ne ho visti tanti Secondo me loro sono Forse i migliori no Però tra i migliori penso Tra i migliori penso perché sono Oh mio dio Alex con tanto di mignolo rotto Si flammano Un po' di dissing Un po' di dissing Ops La cifra che va Dai let's go Ora vediamo Alex Ovviamente posso guardare chi voglio Posso anche aspettare su Jack Ancora Jack in 90 Oh triplo cono Oh 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 È partito a flexarla La flexa Jack Ancora Jack riesce a prendere like Andiamo un attimino Andiamo un attimino No no mi fa più vedere Alex Eh niente si è bloccato Vabbè guarderemo fisso Jack Li mette la scala dentro Piccone 110 Gli cambia anche lui comunque 90 di danno subito Per Jack Che situazione Si boxa Ah hanno i mini Hanno i mini Hanno i mini Perché qua cambia tutto Con i mini cambia tutto Pensavo di no 1-0 per Alex Prima che diva 3 Non si è accorto di me No 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 way Stava per arrivare la picconata pazza Stava per arrivare la se fosse arrivata la picconata ragazzi si volava Oh Vola Vola Cazzo Rola Tiene un attimino Jack che deve per forza cambeccare 2-0 per Alex Ancora in AIG Alex Jack prova Un po' di edit Un po' di build Un po' a caso forse Ma va bene così Mette la scala e riesce a cambiare box Ancora Jack Oh No Gli ha preso tutto Ma quanto pinga bene Alex 33 bianco Eh qui mi sa che è sua Mi sa che è sua Eh qui mi sa che è sua ragazzi Vediamo se Jack Eccolo qua Vuole provare a picconarle palese Madori Scalbo Intanto Si continua Già un po' che i ragazzi si sono scaldati Uh Gli mette una scala dentro E qui Jack già è impaurito Lo sa Uh Prova in qualche modo a hitare Grazie alla scala già non riesce Però purtroppo Prova al 200 Non va Uh Però sta provando palesemente a picconarlo Però è full vita Non so Per essere l'idea Un po' di misto a parte di Jack Ridono i due No 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 L'ocona 175 Eccolo E uh La picconata La picconata La picconata La picconata La picconata Eh vabbè Il comeback Il comeback Il comeback è duro La picconata Pazza sgravata Non ci voleva Prova lì Ah non va Finestrella Non era male l'idea Guarda il Jack Al volo Mamma mia Mamma mia Sarebbe stato figo Comunque dicevo che Sono abbastanza fluidi Per essere da console Quindi mi gasa Guardarli Perché ricordano un po' Un pc player Non così veloce Ovvio I pc sono più veloci Ovvio Le dite in mano Tempareggia un po' troppo Al volo Bello Come no Lo steed questa Ma come non hai tanto Guarda che veloce Che è Jack Oh Lo butta di sotto Quasi Ecco prova 200 Non va 200 di Jack Di Alex Cos'è successo Cos'è successo Il dissing Il dissing interno 8-6 Anzi Partano ancora i 90 di Alex Vedit Non riesce C'è il minionolo Non lo usa il minionolo Però 80 in body Così Questo video è tutto Oh Che cosa è un rapper Sembro Un trapper Sfera e basta Piazza e basta Prova al 200 Non va 100 No No Che errore guardi Alex Che errore guardi Alex La regala La regala La regala 8-7 Gliel'ha proprio regalata Gliel'ha proprio regalata Ne continuiamo Sì sì Tante Inca la Jack Una bella clip Non me ne vado Comincia con i 90 Prova l'hit al volo Non riesce Però Un po' di flexed edit Per lui 110 E fullato di R 8-8 8-8 È riuscita a comeback Argliela ragazzi È riuscita a comeback Argliela Pensavo di stopparlo Sulla vettura di Alex Però mi ha detto No 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 Piazza Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo più avanti Giustamente Quando si parte A fare queste cose qui Non si ferma più Non si fermano più Fino a domani Domani mattina Intorno a qua Sono ancora più che Spammano 90 A roba 110 Bello Ripessa No 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 Oh mio dio Stava provando a picconarlo A momenti ci rimane 9-8 per Jack 9-8 per Jack Il cambeccone Il cambeccone ragazzi Posso editare Jack un po' di miss In questi edit Ma noi comunque Lo perdoniamo Che sticca Oh no Oh no Prende il pompa in mano Flex un po' di edit Guardalo Guardalo Eh vabbè Non si è coperto Abbastanza rapidamente Oh Il D Che bello Quando si flamma Ragazzuoli Vi ricordo come sempre Di inserire il codice creatore Piazzprovini Nello shop di Fortnite In maniera molto facile Levate qui Negozi oggetti Supporto a un creatore Piazzprovini Taggarmi su Instagram Dopo che mi avrete taggato su Instagram E sarà una persona E quella persona Giocherà per l'appunto Contro Alex E contro Jack E se dovesse riuscire A batterli Entrerete in STR Console La sfida è molto semplice La sto tirando grande Perché so comunque Loro sono forti Ma secondo me Qualcuno nei commenti Può riuscire a battli Mi piacerebbe Perché vuol dire Che insomma è bravo E puoi entrare nel team Piazzprovini Nello shop di Fortnite Buona fortuna a tutti voi Piazz